Dal 2021 sono vittima di una stalking, una donna francese con gravi problemi psicologici «Ho sporto denuncia per stalking in Italia e in Francia. Sto aspettando il codice rosso, ovvero il procedimento che prevede un intervento immediato». Lo rivela la cantante Sugar Sabrina Salerno in una lunga intervista all'Inserto Specchio del quotidiano La Stampa Lo rivela la cantante Sugar Sabrina Salerno in una lunga intervista all'Inserto Specchio del quotidiano La Stampa «Nonostante la denuncia nessuno mi dice niente, non so chi è, se è pericolosa Convivo con la paura di trovarmi là davanti, temo la reazione che potrei avere e anche le conseguenze, visto che se qualcuno entra in casa tu armato e ti difendi qui in Italia finisci anche in galera Questa donna soffre di problemi psicologici, continua Sabrina Salerno, è ossessionata, dice di essere mia moglie e che il diavolo ci separa Ho le scatole piene di questa storia, sono due anni che vivo in ansia, penso alle donne impaurite che non hanno una rete intorno con me Basta piangere ai funerali e non fare niente per cambiare le cose Continuano a morire donne, è un fallimento Bisogna denunciare, ascoltare, inasprire le pene, prosegue Sabrina Salerno Bisogna denunciare, ascoltare, inasprire le pene di questa storia